Buonasera cari amici di Telemolise, ben ritrovati per l'ultima edizione del nostro telegiornale che torniamo ad aprire con l'autonomia differenziata perché anche in Molise il provvedimento accende lo scontro tra centrodestra e centrosinistra. Per la maggioranza parla l'assessore regionale Michele Iorio che invita a fare fronte comune per ottenere modifiche per l'opposizione. La consigliera Michaela Fanelli annuncia la mobilitazione contro la norma appena varata. Il servizio di apertura è di Enzo Luongo. Con il definitivo via libera in Parlamento l'autonomia differenziata accende lo scontro politico. Anche in Molise il rompe nella campagna elettorale in vista del ballottaggio di Campobasso. Per il centrodestra parla l'ex presidente Michele Iorio che interviene in particolare in qualità di capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione per far notare che proprio il suo partito in sede di commissione al Senato anche attraverso il senatore Costanzo della Porta ha introdotto quale condizione indispensabile perché ci sia l'autonomia differenziata la pregiudiziale sull'applicazione dei LEP. Questo vuol dire, osserva Iorio, che i livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale perché riguardano i diritti civili e sociali da tutelare per tutti i cittadini. Quest'iniziativa, aggiunge, rappresenta un vero e proprio macigno sostanziale affinché l'autonomia differenziata non diventi dannosa per alcune regioni, avvantaggiandone altre. Iorio si sofferma poi sulla posizione della Regione Molise. È stata opportuna ed equilibrata, dice, in sede di conferenza per la salvaguardia degli interessi del nostro territorio. Bene quindi il presidente Roberti che ha espresso questa posizione chiedendo una maggiore attenzione sulla realizzazione dei LEP. Iorio critica invece l'atteggiamento delle opposizioni. Stanno speculando sulla questione, di fatto rinunciando a richiedere eventuali correttivi se mai ce ne fosse bisogno, limitandosi a bocciare senza ritegno l'applicazione di una legge da loro stessi voluta con la riforma costituzionale del titolo quinto. Proprio dall'opposizione attacca invece la consigliera regionale del PD, Micaela Fanelli. La secessione dei ricchi, la riforma dell'autonomia differenziata che spaccherà in due l'Italia e legge, afferma la Fanelli, e sarà un colpo mortale all'unità del paese, alla Costituzione e ai territori più deboli, primo tra tutti il Molise. La nostra regione, aggiunge, vanta persino il relatore, il senatore Costanzo della Porta, tra i fautori della legge che ci ha condannati a morte, al quale fa ecco il servile silenzio del governatore Roberti. Per la Fanelli, da qualsiasi parte la si guardi, quella dell'autonomia differenziata è una riforma indifendibile. Per questo l'esponente del PD annuncia il suo sostegno alla battaglia contro il provvedimento. Da oggi stesso inizierà la mobilitazione referendaria e quella dell'impugnativa davanti alla Corte Costituzionale con la raccolta di firme, ma anche con l'impegno delle regioni. Ne occorrono cinque che presenteranno una proposta di legge in Consiglio regionale. Apriamo la pagina elettorale. C'è stata una conferenza stampa questa mattina dei consiglieri eletti del centro-destra al comune di Campobasso. Presente anche il candidato alla carica di sindaco Aldo De Benedittis, l'incontro con la stampa per chiarire i dati del risultato elettorale. Siamo maggioranza, come dimostrano i verbali dell'ufficio elettorale, da parte di progressisti e civici, tanta disinformazione. C'era per noi Pasquale Di Bello. Se le conferenze stampa avessero un nome, carta canta sarebbe quello dell'incontro che il candidato sindaco di Campobasso, Aldo De Benedittis e i consiglieri comunali eletti nel centro-destra, hanno tenuto alla presenza di giornalisti, operatori, fotografi e cronisti. Facendo cantare le carte, gli uomini e le donne del centro-destra hanno mostrato i verbali riassuntivi prodotti dall'ufficio elettorale centrale. 13.713 voti per il centro-destra, 8.441 per il fronte progressista e 3.886 per la coalizione civica. Il centro-destra, quindi, hanno detto, supera ampiamente la soglia del 50% dei consensi, attestandosi esattamente oltre il 52%, risultato chiarissimo per Aldo De Benedittis. Una conferenza stampa è indetta dai consiglieri comunali eletti, perché saranno sicuramente proclamati eletti, proprio per far capire che il centro-destra ha vinto queste elezioni. Noi abbiamo la maggioranza, cioè certificato dalla commissione elettorale, quindi non posso ancora continuare a dire che non è vero. Sono dati ufficiali, la proclamazione è chiara, verrà fatta dopo, quando ci sarà l'elezione del sindaco. Una campagna elettorale asperrima, quella giunta alle ultime battute De Benedittis dal canto suo tira dritto verso l'obiettivo di domenica e lunedì, vincere il ballottaggio. Sono gli altri che cercano di confondere le idee. Noi abbiamo le idee ben chiare, sia per quanto riguarda le elezioni, sia per quanto riguarda la città di Campobasso. Abbiamo tanti progetti, tante idee, li abbiamo messi in un programma che è pubblicato, quindi non vedo i problemi quali siano. Mi auguro che i cittadini di Campobasso capiscano se vogliono rimanere così come stanno oppure se vogliono cambiare in meglio queste città. E la candidata alla carica di sindaco di Campobasso dell'area progressista, Maria Luisa Forte, insieme alla sua squadra, ha organizzato un flash mob in piazza Municipio per ribadire la contrarietà all'autonomia differenziata, ora legge. Il centrodestra ha spaccato l'Italia in due addetto. Sentiamo Tonino Danese. L'autonomia differenziata, ora legge, tiene banco con le proteste e le polemiche delle opposizioni. A Campobasso la candidata sindaca dei progressisti, Maria Luisa Forte, insieme alla sua squadra, compreso Pino Ruta e il cantiere civico, ha organizzato un flash mob proprio sul tema. Il centrodestra ha spaccato l'Italia in due, ha sottolineato rifacendosi a uno dei cartelloni srotolati in piazza Municipio. Vogliamo chiedere ai nostri, a Roberti, vogliamo chiedere all'ancellotta della porta, cesa dell'autito e anche a De Beneditti, se a tutti i consiglieri candidati al comune di Campobasso di centrodestra, se vogliono dire qualcosa sull'autonomia differenziata, che è un danno irreparabile per il Sud, il Molise e per Campobasso. Oppure se vogliono essere schiavi di questo disegno politico criminale per i nostri territori. Perciò siamo qui per dire no all'autonomia differenziata che sancisce che ci sono cittadini di serie A e di serie B. E questo invece noi vogliamo essere qui con la schiena dritta contro ogni imposizione dall'alto. Se questa è la filiera istituzionale, è una filiera istituzionale che già ci ha portato a sbattere contro il primo muro, il muro dell'autonomia differenziata. E allora se esiste un voto utile, il voto utile è un voto libero contro l'autonomia differenziata, quindi un voto per un centro-sinistra, per un'alleanza progressista che dice no all'autonomia differenziata. Questa legge ha continuato forte, significa meno risorse, meno servizi, meno sanità e una scuola diversa per ogni regione. Non ci sarà più un sistema di istruzione, un sistema di formazione uguale che veramente unisce tutti i cittadini italiani. L'articolo 3 della Costituzione italiana si realizza proprio attraverso la scuola, perché la scuola è quella che rimuove gli ostacoli e rende davvero sostanzialmente uguali tutti i cittadini italiani. E c'è stata una dura presa di posizione del neo-eletto consigliere comunale di Campobasso, Domenico Esposito. La sua è una netta requisitoria verso costruire democrazia. Il suo leader, Massimo Romano, accusati di aver tradito i propri elettori. Sotto accusa l'accordo sottoscritto dalla coalizione civica col fronte progressista di Maria Luisa Forte. Romano ha patteggiato tre poltrone per sottoscrivere l'accordo. Questa l'accusa di Esposito, che poi prosegue Romano ha venduto il progetto di essere fuori dai partiti e con esso anche coloro che ingenuamente ci avevano creduto. Stessa cosa, conclude sempre Esposito, vale anche per l'ex candidato sindaco Pino Ruta. Tre richieste da soddisfare, altrimenti sarà mobilitazione. Abbiamo voltato pagina e parliamo dei sindacati che chiedono garanzie da Stellantis su tempi e modalità di produzione dei motori endotermici e vogliono conoscere da essi sì una data certa sulla partenza della Gigafactory dopo il rinvio annunciato. Le parti sociali chiedono poi vigilanza e intervento da parte del governo. Sentiamo Andrea Nasillo. Garanzie su tre piani le chiedono i sindacati a stretto giro altrimenti la mobilitazione sarà cosa certa. Una mobilitazione che vorrà coinvolgere tutta la società civile. Risposte certe che esi sì, la società che si occupa della costruzione della Gigafactory deve dare. Le parti sociali vogliono innanzitutto conoscere con assoluta sicurezza la data effettiva di partenza della fabbrica di batterie dopo l'annunciato slittamento. Da Stellantis vogliono totali garanzie sulla produzione ulteriore di motori endotermici. La Cassa Integrazione non può e non deve essere la ricetta quotidiana. E poi la terza richiesta è al governo di vigilare, intervenire e scongiurare con i fatti ogni drammatico risvolto. Questi tre piani su cui le organizzazioni sindacali vogliono camminare non sono mancati diversi incontri tra le parti sociali e i lavoratori negli ultimi giorni. Altri ce ne saranno. Centinaia di famiglie che sono in attesa vivono nell'incertezza notizie che negli ultimi mesi si sono rincorse. Passi avanti e passi indietro le perplessità non mancano. Da ACC e Stellantis è stata ribadita in più occasioni la volontà di investire su termoli. Ma il tempo passa e i lavoratori non vogliono più avere dubbi. Proprio Stellantis di recente ha aumentato il peso societario in ACC con il 45% di quote. Mercedes il 30% e Total Energies il 25%. Intanto le procedure di fuoriuscita volontaria incentivata per molti dipendenti vanno avanti più di qualcuno ha lasciato la fabbrica nelle scorse settimane. Intanto nella fabbrica Stellantis di Termoli si è riunito il comitato esecutivo di stabilimento costituito da azienda e componenti sindacali. In via cautelativa è stata fatta richiesta di cassa integrazione ordinaria per i motori FIRE dal 15 al 28 luglio per i motori GME, GSE e V6 dal 15 al 21 luglio. Abbiamo concordato per tutto il plant un'ulteriore settimana di ferie pertanto è scritto in una nota dei sindacati la chiusura collettiva estiva sarà dal 29 luglio al 18 agosto. Voltiamo pagina l'antitrasta ha sanzionato per 6 milioni di euro la DR secondo l'autorità garante della concorrenza e del mercato l'azienda avrebbe attuato pratiche commerciali scorrette nella vendita delle auto. Il gruppo molisano contrattacca respingendo le accuse e annuncia ricorso. Sentiamo ancora Enzo Luongo. L'autorità garante della concorrenza e del mercato sanziona la DR e l'azienda molisana annuncia ricorso e contesta il provvedimento si annuncia una battaglia sulla vicenda che coinvolge la fabbrica di automobili partiamo dalla sanzione 6 milioni di euro di multa per aver attuato secondo l'antitrast pratiche commerciali scorrette per la Gcom DR nelle sue campagne pubblicitarie ha indicato l'Italia come origine e luogo di produzione delle auto commercializzate con i marchi DR e Evo si tratta però di autoprodotte in Cina salvo marginali interventi di rifinitura una pratica dunque ingannevole secondo la tesi dell'antitrast che contesta anche un'altra questione non sarebbero stati garantiti un adeguato approvvigionamento dei pezzi di ricambio e una corretta assistenza post vendita tramite la rete dei concessionari e delle officine autorizzate DR però non ci sta e a stretto giro fa sapere che non condivide la decisione della Gcom e la impugnerà nel merito l'azienda osserva che la delocalizzazione in estremo oriente di parte della produzione delle auto commercializzate dal gruppo molisano non è mai stata celata al pubblico e che tra l'altro è una pratica comune nel settore auto al tempo stesso le campagne promozionali non hanno mai inteso pubblicizzare una pretesa integrale fabbricazione delle auto in Italia quanto sottolineare il forte legame del gruppo automobilistico con il nostro paese e la regione molise sotto il profilo della proprietà e storico oltre a evidenziare prosegue la nota del gruppo le importanti fasi che si svolgono negli stabilimenti di Macchia di Sernia in termini di ricerca sviluppo design progettazione rifinitura e completamento dei veicoli DR precisa anche che intende accrescere le fasi di lavorazione in Italia ampliando il proprio polo industriale di Macchia di Sernia con un nuovo stabilimento produttivo nella prospettiva dello sviluppo di nuovi modelli per quanto riguarda la questione dei pezzi di ricambio e dei tempi di attesa per ottenerli l'azienda evidenzia che è stato omesso il fatto che la carenza dei pezzi è stata causata da una nota interruzione della catena di approvvigionamento del settore automotive avvenuta nel periodo post pandemia una situazione definita comune a tutto il settore comunque ormai in fase di assorbimento come provano i dati registrati dal gruppo negli ultimi mesi che mostrano tempi medi di consegna dei pezzi di ricambio di poco superiori ai due giorni si è svolto in regione un incontro tra la direzione della salute la struttura commissariale e i sindacati Fialz e Nursind per sottoscrivere l'accordo sull'erogazione di prestazioni aggiuntive del personale sanitario non medico l'intesa ha detto il segretario regionale della Fialz Carmine Vasile era di vitale importanza perché recepisce le previsioni della legge finanziaria 2023 ed è utile per erogare maggiori prestazioni sanitarie ai nostri cittadini inoltre ha aggiunto Vasile stabilisce una remunerazione adeguata alle prestazioni sanitarie erogate oltre l'orario ordinario di servizio dal personale dipendente finora sottopagato questa volta ha concluso sempre Carmine Vasile un plauso va fatto alla direzione generale della salute e alla struttura commissariale che hanno elaborato un documento in tempi rapidi e condiviso da tutte le parti sindacali firmatarie del contratto nazionale di lavoro e il ministro Francesco Lollo Brigida ha firmato il decreto sul fermo pesca da San Benedetto a Bari stop dal 16 agosto al 29 settembre ma non tutte le novità entusiasmano la marineria termolese sentiamo perché ancora con Andrea Nasillo è stato firmato dal ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare delle foreste Francesco Lollo Brigida il decreto sul fermo pesca obbligatorio 2024 da San Benedetto del Tronto a Bari stop dal 16 agosto al 29 settembre e dal 1 luglio si pesca tre giorni o 72 ore a settimana bisogna comunicarlo dal 1 luglio al 31 ottobre niente attività entro le 6 miglia tranne per la piccola pesca il decreto si basa su un cambio di paradigma rispetto ai fermi degli anni passati vogliamo dare la possibilità ha detto il ministro Lollo Brigida alle imprese di pesca italiane di poter scegliere quando pescare e quando no ribaltando quindi l'impianto assunto negli ultimi anni ora auspichiamo ha commentato ancora Lollo Brigida che la nuova commissione europea possa rivedere le politiche portate avanti in questi anni che non hanno fatto altro che danneggiare un asset fondamentale della nostra nazione l'Italia non si è mai tirata indietro lo scorso dicembre al consiglio agri-fish abbiamo detto no ha continuato Lollo Brigida all'ulteriore riduzione delle possibilità di pesca e in linea con quanto fatto fino ad ora continueremo a lavorare in Europa per difendere i nostri pescatori le nostre marinerie e il nostro modello economico a Termoli però non c'è affatto entusiasmo si arpeggiano malumori questi ulteriori giorni di fermo aggiunti all'obbligo di dotare anche la piccola imbarcazione di un sistema di tracciamento dimostra ancora di più ha commentato Domenico Guidotti della marineria termolese che la politica della comunità europea è quella di sopprimere la pesca strascico ce ne faremo una ragione mangeremo solo filetti di pangasio e anellini di calamari provenienti dall'Africa ora c'è una notizia di giudiziaria era stato condannato in primo grado per maltrattamenti e violenza sessuale sulla compagna ma oggi è stato assolto dalle accuse il verdetto a carico di un uomo della provincia di Campobasso difeso dall'avvocato Nicolino Cristofaro ed è stato emesso il verdetto di assoluzione dalla corte d'appello di Campobasso in primo grado era stato condannato con il rito abbreviato dal giudice per le indagini preliminari di Larino a due anni e quattro mesi di reclusione parte a Campobasso nell'area murattiana la raccolta differenziata col sistema col sistema delle ecostazioni soddisfazione è stata espressa dalla presidente della SEA Stefania Tomaro alla SEA è andato di recente anche il premio Industria Felix per i risultati raggiunti sentiamo ancora Pasquale Di Bello parte la raccolta differenziata col sistema delle ecostazioni all'interno dell'area murattiana di Campobasso ad illustrare le novità in conferenza stampa è stata l'amministratore della SEA la società che si occupa della raccolta Stefania Tomaro sono dei manufatti che prevedono che si possa conferire si possano conferire rifiuti per singole frazioni quindi sono cinque diciamo carrellati che vengono coperti da questo manufatto che viene si può conferire tramite una tessera ad hoc la modalità di conferimento è tramite una tessera quindi c'è una tecnologia refeed con una tecnologia abbasculante che consente anche di controllare da remoto il riempimento dei singoli cassonetti si dovrà conferire con una modalità che diciamo è un porta a porta stradale quindi a determinati orari in determinati calendari andiamo a completare la zona 3 con cui è suddivisa la città di Campobasso quindi abbiamo previsto un porta a porta spinto su tutto il territorio ad eccezione della zona centrale per la caratteristica e la morfologia del territorio richiede un'attenzione differente questo investimento poi non dimentichiamo che rientra in una pianificazione ad hoc che era già stata prevista a suo tempo e fortunatamente è anche coperto dai progetti PNRR quindi è un'istruttoria finanziata al 100% da finanziamenti comunitari i risultati ottenuti nel tempo sono stati più che soddisfacenti dice la Tomaro che registra un incremento di quasi il 30% della raccolta dal 2018 ad oggi si è passati dal 28,55% al 57,43% un lavoro profiguo oggetto di recente di un riconoscimento importante il premio Industria Felix Siamo molto contenti perché nuovamente viene conferito il premio Industria Felix nel caso specifico è stato conferito per tutti i territori del centro sud e chiaramente il Molise appartiene a quest'area del paese i parametri sono solidità di bilancio innovazione laddove per innovazione si intende innovazione di processi innovazione di tecnologie quindi siamo fieri di aver introdotto anche un'innovazione tecnologica proprio per questo sistema di conferimento complice anche una condivisione a monte con il comune di Campobasso che ringrazio in anticipo e la cosa principale è la solidità dei conti non è banale per delle società in house soprattutto nel territorio del sud in generale Se i laghi di Occhito e Guardia Alfiera soffrono per la siccità l'osservatorio dell'Associazione Nazionale Consorsi di Gestione e Tutela del territorio e delle acque irrigue sottolinea una situazione di controtendenza nella piana di Venafro dove le piogge primaverili hanno consentito di posticipare la stagione irrigua iniziata da poco più di una settimana il risultato sottolinea l'Associazione è che la disponibilità idrica è rassicurante grazie anche alle vasche di compensazione che hanno consentito di ovviare alle esigue portate del fiume Volturno da cui si effettuano i prelievi per l'irrigazione appunto parliamo ora di maturità oggi la seconda prova dell'esame ai Serni abbiamo raccolto le sensazioni dei ragazzi all'uscita da scuola e c'era per noi Barbara Fino esame di maturità 2024 parte 2 se la prima prova il tradizionale tema è uguale per ogni istituto oggi i maturandi hanno affrontato la temutissima seconda prova un compito scritto dedicato alle discipline fondamentali del loro percorso di studi anche questa così come avviene per lo scritto d'italiano viene preparata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla base del programma svolto nel triennio alle 8.30 i maturandi hanno scoperto quali tracce avrebbero dovuto affrontare tanta paura al liceo classico dove quest'anno gli studenti hanno dovuto confrontarsi con Platone che non usciva dal 2010 in una versione di greco al liceo scientifico invece il temutissimo compito di matematica gli studenti hanno affrontato problemi tra cui lo studio di funzione e quesiti matematici al liceo delle scienze umane invece la prova ha riguardato i concetti di Maria Montessori e John Dewey seconda prova tanto temuta come è andata? allora spero bene ho scritto abbastanza quindi in teoria dovrebbe essere andata bene al 6 al 6 credo di esserci arrivata bastava poco a studiare cioè non era nemmeno tanto complicato diciamo erano autori semplici alla fine Dewey e Montessori quindi abbastanza semplici abbiamo sviluppato un tema che riguardava appunto entrambi gli autori e li metteva in comune fatto a questa prova ormai siamo quasi al 50% come ti senti quasi ad un piede della maturità in ansia per l'orale in ansia però speriamo vada bene è una traccia ricca di contenuti e di possibilità insomma che penso che abbia originato tantissimi temi diversi tra tutti i ragazzi che hanno fatto l'esame quindi insomma è stato un vero piacere poter scrivere a proposito conto economico stato patrimoniale analisi aziendale per gli studenti degli istituti e indirizzo amministrazione finanza e marketing prove tecniche pratiche invece per gli istituti professionali com'è stata la prova come l'avete trovata? no è stata molto più semplice degli altri anni e infatti siamo stati molto fortunati qual è stata la prima persona che hai chiamato appena è finito? mamma e poi nonna subito dopo allora cosa le hai detto? eh che comunque è andata molto bene che era collegabile una traccia cioè detta mia bellissima poi economia quindi si collega un po' a tutto ecco cosa avete dovuto fare voi? allora la traccia parlava del PIL quindi benessere economico di crescita felice e in generale anche un po' delle condizioni dei lavoratori era facile era sullo sviluppo sostenibile molto facile dai che il grosso è fatto sì sì dai i vigili del fuoco sono dovuti intervenire a Castel Mauro per il crollo parziale del tetto di un'abitazione disabitata dopo una verifica la squadra ha constatato che non c'era alcuna persona nell'edificio l'intervento è terminato perciò con l'interdizione della casa e del vicolo adiacente proprio per la salvaguardia della pubblica incolumità sul posto anche il sindaco di Castel Mauro la spesa per i beni durevoli nel 2023 in Molise si è concentrata sulle auto nuove e usate in calo tutti gli altri acquisti mobili per la casa telefonia e computer Isernia prima città del sud per investimenti proprio in questi beni ce ne parla Marta Martino auto nuove usate elettrodomestici tecnologia dell'informazione telefonia i cosiddetti beni durevoli nel 2023 hanno visto in Molise una spesa di quasi 340 milioni di euro quasi il 6% in più rispetto all'anno precedente i dati sono stati rilevati dall'osservatorio di Prometeia per comprendere come gli italiani spendono i loro risparmi e cosa considerano come inunciabile in Molise è particolarmente dinamico il settore dei motoveicoli che mostra però che l'acquisto di auto nuove è di poco superiore a quelle dell'usato crescita contenuta per gli elettrodomestici mentre sono crollate le elettroniche e la tecnologia dell'informazione legata al mondo dei computer soprattutto in calo anche beni durevoli per la casa mobili e telefonia se si guarda la spesa delle famiglie quelle molisane hanno impegnato una media di quasi 2600 euro a nucleo per gli acquisti in beni durevoli valore inferiore alla media italiana ma superiore a quella del mezzogiorno guida la spesa alla provincia di Isernia con consumi per 2711 euro a nucleo guadagnandosi così il 61esimo posto nella graduatoria delle 107 province italiane è il primo posto tra tutte quelle del sud Campobasso invece in questa graduatoria è al settantesimo posto e ora vogliamo parlarvi di una piattaforma che ha l'ambizione di creare una rete turistica regionale e a sua volta tante reti per i diversi ambiti del settore si chiama Molisi e presso la sede della Confcommercio a Campobasso ha incrociato i suoi progetti con quelli degli operatori del settore proprio per delineare progetti di intervento e di promozione c'era per noi Stefano Ricci un confrontarsi diverso nuovo e nei tempi di un turismo organizzato e pronto a regalare esperienze made in Molisi a clienti anche internazionali Molisi con il suo bagaglio di operatori turistici privati a sostegno si pone il progetto ambizioso di agire dove il dibattito in regione non si è mai tramutato infatti anni e anni di dibattito su un turismo da rilanciare ma poi e poi spesso molti operatori anche del settore agiscono in modo autonomo e quindi non si riesce bene a creare una rete che è fondamentale soprattutto nell'organizzazione turistica del territorio perché non basta la promozione se poi arriva il turista e trova un territorio disorganizzato soprattutto con dei servizi poco efficienti ecco che la reputazione va a calare insomma della destinazione in questo caso Molise a testimoniare che il successo a organizzarsi non è poi così lontano l'esempio dell'esplosione dell'abruzzese costa dei Trabocchi con il suo sistema che ha messo in rete identità e tendenze Noi diciamo sempre la costa dei Trabocchi è il surf ma le vere emozioni sono nelle colline e poi per arrivare fino in montagna noi abbiamo queste colline tra l'alto del vino che sono bellissime piene di vigne con questi anche prodotti molto ormai ricercati e richiesti e uno dei veicoli uno dei driver che abbiamo utilizzato per fare questa connessione questa integrazione è proprio il cicloturismo realizzando una prima rete di 300 km di percorsi cicloturistici che vanno in collina che adesso stiamo raddoppiando con altri 300 km che penetrano nell'entroterra raggiungono i confini con il Molise raggiungono la Maiella raggiungono gli altipiani maggiori attraverso la Val di Sangro dagli operatori già presenti in Molise l'invito a chi voglia fare rete nel segno dei valori veri dello sviluppo bisogna crederci innanzitutto e se di queste piattaforme se ne fa solo un discorso economico allora credo che è meglio rimanerne fuori qui è un discorso appunto gli dicevo esistenziale è un qualcosa in più è un voler bene al proprio territorio ci si deve credere perché se appena si entra si vuole subito fare soldi no i soldi devono essere il risultato di un qualcosa di costruito di costruito con appunto questi valori la Conf Commercio come ombrello che racchiude le diverse anime di uno sviluppo possibile è chiaro che la nostra associazione si pone come dire come punto di di tre di un on fra tutte le imprese che in questo settore operano perché è importante fare rete perché nelle peculiarità di ognuno di ogni piccola azienda di piccola media azienda in tutti i settori che vada all'agriturismo all'esperienza all'attività turistico esperenziale è possibile appunto mettere a frutto tutte le migliori pratiche e parlarne tanto forse anche troppo in questi ultimi anni ha portato magari a maturare nell'idea dei molisani e degli operatori economici molisani che davvero bisogna fare rete o rete nelle reti se vogliamo per poter essere competitivi e comunque anche per far passare un messaggio che è quella di un'identità della nostra regione perché siamo talmente pochi talmente piccoli e purtroppo sempre meno che andare ognuno per conto proprio sicuramente non è la strada da percorrere e con la piattaforma di rete turistica Molisi termina anche l'ultima edizione del nostro telegiornale vi saluto come sempre ringraziandovi perché scegliete Telemolise buonanotte grazie a tutti a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.